10 milioni di euro per piccoli e piccolissimi, non un conto in banca ma un adotto consistente per le aziende pugliesi di taglia ridotta, con il nuovo bando che l'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, Loredana Capone, ha presentato alla Fiera del Levante di Bari. Un aiuto non per tutti, ma per chi ha dimostrato, in settori strategici per la Puglia, di saper puntare sull'innovazione d'impresa. L'obiettivo fondamentale è quello di renderle più competitive in terreni che sembrano nominati come quelli dell'investimento nella ricerca, nella innovazione, trasformare la ricerca in industria, la cultura in industria, la creatività in industria. Questo è il nostro obiettivo, si capisce da questo stand ma anche da questi bandi che sono coerenti all'informazione che diamo e per questa ragione che ci sono 10 milioni di euro in campo, ma 5 con un altro bando, sia per le imprese di nuova costituzione, quelli che rispondono al bando dei 5 milioni, sia per imprese che sono già costituite da almeno 5 anni sostanzialmente e che stanno proponendo progetti per implementare la loro ricerca e la loro innovazione.